Nicola Molteni, la Lega Nord è sabato mattina, che cosa farà? Al grido basta clandestini criminali in galera, organizzerà davanti alle carceri del Nord una serie di presidi per contrastare e per far sentire alta la voce di indignazione contro l'ennesimo svuotacarceri del governo Letta, in nove mesi quattro svuotacarceri con cui si liberano le carceri di gravissimi criminali che hanno commesso reati efferati e per dire no all'abolizione del reato di immigrazione clandestina che proprio in questi giorni si sta votando in Parlamento. La Lega difende la legalità, la Lega difende la sicurezza, la Lega difende il fatto che il nostro territorio venga inquinato da criminali pericolosissimi e vi sia questa invasione di massa da parte del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Stiamo battagliando nelle aule parlamentari, alla Camera e al Senato per bloccare questi provvedimenti che minano fortemente la sicurezza dei cittadini e battagliamo anche nelle piazze insieme ai cittadini indignati. Il nostro è un paese che chiede e pretende, i nostri cittadini chiedono e pretendono più sicurezza, il governo Letta e le forze politiche che sostengono il governo Letta invece stanno sostenendo e difendono i migrati clandestini da un lato, detenuti e i pericolosi delinquenti dall'altro lato.